Lei è mia sorella Anna. Adesso che vi siete conosciuti hai verificato che i miei amici non sono cool e divertenti. Te ne puoi andare? Ma come? Volete chiudere la serata con una lagna? Avete un tablet e una cassa bluetooth? Perché? Come perché? Per questo! Su le mani ragazzi, forza! Questa è la mia canzone preferita! E allora dimostralo! Muovi questi fianchi, Marta. Leo, allora tocca a te! E adesso... Michelle! Vi faccio vedere io come si balla. Stai Michelle? Tommy, venite a fare un selfie. La sera non è una forza! Già, perché non ce l'hai presentata prima? Ma già, chissà perché. Che ha detto?